Nuove occasioni di riformazione di lavoro, nuovi sostegni alla famiglia del futuro. 3 milioni di euro in 7 anni per finanziare l'azione di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in aiuto delle famiglie umbre alle prese con stili di vita ed esigenze nuove. L'assessorato regionale alla coesione sociale e welfare ha destinato appunto 3 milioni di euro per il progetto Family Help e si va a costituire dopo 5 anni di proficua sperimentazione l'elenco regionale. I Family Helper dovranno fornire supporto nella cura dei bambini e dei ragazzi, fra cui l'accompagnamento a scuola o nelle attività extrascolastiche, oppure aiutarli nello svolgimento dei compiti. Anche in questo caso bisogna garantire un appoggio nell'esplodamento di attività domestiche, nello svolgimento delle diverse attività quotidiane con esclusione delle prestazioni specialistiche di ogni tipo in campo educativo, sociale e sanitario. In pratica, ha precisato l'assessore fresco di Rinomina Barberini, abbiamo voluto permettere, in particolar modo alle donne che non hanno un reddito elevato, di coniugare il diritto al lavoro con il lavoro di cura familiare e pertanto ridurre anche quelle differenze di genere ancora molto evidenti purtroppo anche nella nostra regione. Oggi nel bollettino ufficiale della regione è stato pubblicato l'avviso per la costruzione dell'elenco. L'avviso per l'iscrizione sarà aperto fino al 30 giugno del 2019. La partecipazione al percorso di formazione è gratuita e si concluderà con il rilascio di un attestato di frequenza. L'azione, ha detto l'assessore Barberini, sarà rafforzata con un contributo sotto forma di buoni lavoro IMSS, ciascuno del valore di 10 euro, da destinare alle persone con carico di cura, coadiuvate dall'helper e spendibili solo per retribuire le prestazioni fornite dagli iscritti nell'elenco regionale sotto forma di lavoro accessorio o non continuativo. La domanda può essere presentata sul canale Bandi del sito www.regione.umbria.it e alla pagina www.regione.umbria.it slash sociale attraverso una procedura telematica.